Buonasera, cosa fa? Forse se mi allungo... Cosa fa? Non ci arrivo. Presidente Conte, cosa fa? Buonasera. Buonasera. Cosa c'è? Cosa c'è? Non arrivo a mangiare il panettone. Ah! Non arrivo a mangiarlo. Ma è un modo di... Qualcuno dice sì, arriva a mangiarlo. Cari italiane, cari italiane... Sì, no... No, perché il frollino... Sì, lo mangia. Quello ci arriva. Ma non arrivo a mangiare il panettone. Vedo, lo vediamo, sì. Non arrivo. Eh, lo so, lo so. Forse provo con una rincorsa. Provi, vediamo se... Non arrivo. Non arrivo. Non arrivo. Sì. Provo a fare un DPCM. Proviamo, vediamo. Cari italiani, cari italiani, da lunedì i bars saranno tutti riaperti. Proviamo? Non c'è presso. Niente. Non riesco. Posso provare con una rondata, una doppio flicca e flacca? Ma guardi, non lo so. Non arrivo a mangiare... Eppure... Non arrivo... Eppure i frollini sì. Questo è con le variegate al cacao? Sì. E lo riesce a mangiarlo. Invece non arrivo... Non arrivo a mangiare il panettone. Eh, lo so. E che devo togliermi dai coglioni Renzi. Lei dice... Se voglio arrivare a mangiare il panettone, devo fare lo sgambetto alla bella nova. Sì. Nella speranza che rovini sul dentino cagacazzi. Ma forse... Non arrivo a mangiarlo. Non ho. Non ho. Non ho. Sì.